Buongiorno a tutti i nostri amici in visione e all'ascolto di una nuova puntata di SOS Coronavirus, la regione in ripartenza. Oggi parliamo dell'ordinanza numero 73 del 10 giugno, un'ordinanza emanata dal Presidente della Giunta regionale che introduce ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, un'ordinanza che fa riferimento alla legge del 23 dicembre 78 numero 833 in materia di igiene e sanità pubblica e all'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19, disposizioni operative per le residenze universitarie. Che cosa prevede questa ordinanza? Approva le disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie, disposizioni che sono contenute nel documento allegato all'ordinanza. Quali sono queste disposizioni operative? Obiettivi e finalità, la riattivazione dei servizi a favore degli studenti e degli Atenei dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione del Covid-19. Parliamo quindi di residenze universitarie, spazi didattici e spazi comuni negli Atenei. Chi sono i destinatari? Sono gli studenti che usufruiscono delle strutture ospitanti, degli spazi didattici, delle aree comuni degli Atenei, il personale operante all'interno delle strutture ospitanti. Quali sono queste misure? Al fine di garantire la corretta applicazione di tutte le misure di prevenzione è richiesto, presso ogni sede di Ateneo, l'individuazione di un referente dei servizi Covid-19 che avrà il compito di implementare i protocolli di sicurezza definiti, monitorandone l'attuazione e rilevandone eventuali criticità. Tale figura, formata per il rischio specifico, può coincidere con il responsabile della sicurezza. Fermo restando gli obblighi disposti dalle normative, gli ospiti che hanno lasciato precedentemente alla fase 1 la residenza universitaria assegnata possono farvi rientro, inoltrando specifica richiesta all'indirizzo email indicato della struttura erogante con l'obbligo di autocertificazione sullo stato di salute e indicazione della motivazione del rientro. Il responsabile della residenza deve prevedere giorni e fasce orarie dedicate al ritiro di effetti personali da parte di studenti che ne facciano richiesta e l'accesso sarà consentito agli studenti per l'utilizzo della mascherina, igienizzante delle mani e controllo della temperatura corporea all'ingresso. Quali sono le indicazioni che gli studenti sono tenuti a rispettare all'interno delle residenze sanitarie. Intanto per quanto riguarda gli studenti che non si sono mai allontanati da quando è entrata in vigore la fase 1, parliamo di studenti titolari di alloggio in camera singola con bagno privato, devono adottare le regole normali di distanziamento, gli spostamenti interni alla residenza, indossare le mascherine in presenza di altri, osservare le indicazioni di prevenzione, favorire il ricambio d'aria della stanza lasciando il più possibile le finestre aperte. Per quanto riguarda gli studenti titolari di alloggio, di posto di alloggio in camera singola con bagno in comune, anche qui provvedere alle incidenzazioni del bagno dopo ogni utilizzo, lavarsi le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi oppure in assenza di acqua e sapone utilizzare gel idroalcolico e altre indicazioni. Per quanto riguarda gli studenti che al momento di entrare in vigore della fase 1 si trovavano al di fuori della residenza universitaria, in altro comune regione, che chiedono di entrare, che cosa è previsto? Il rientro nella residenza universitaria è consentito a previa presentazione di stanza e autocertificazione dalle quali si evinca lo stato di salute e la motivazione del rientro. Allo studenti che risultasse avere una temperatura corporea superiore a 37 gradi centigra e mezzo o che dichiari di aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid-19 sarà impedito l'accesso alla struttura o assegnato un posto alloggio isolato nella residenza. Riguardo alle misure da attuare per la prevenzione del contagio, occorre dire che prima del rientro nelle residenze degli studenti, sia temporaneo per ritiro degli effetti personali che continuativo per la ripresa dell'attività didattica, vanno valutate le singole richieste e i moduli di autocertificazione inviati dai richiedenti. Il responsabile della struttura esegue un triage telefonico per valutare il livello di rischio, verificando in primis la presenza di sintomi attuali o recenti nel soggetto o in altri conviventi e poi in secondo luogo l'eventuale esposizione a soggetti positivi e il livello di isolamento mantenuto negli ultimi giorni. Devono inoltre essere garantite le seguenti misure, la riorganizzazione dei percorsi di ingresso e uscita, l'attivazione di procedure di triage in area filtro nella quale effettuare la rilevazione della temperatura e l'igienizzazione delle mani, il divieto di ingresso anche temporaneo nelle camere altrui, l'accesso alle residenze consentito esclusivamente agli utenti assegnatari di alloggio, la predisposizione di un protocollo di igienizzazione giornaliero degli ambienti per il quale il responsabile nel rispetto delle normative predispone un protocollo di pulizia, l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale e tutta una serie di regole tra cui la disponibilità di gel, soluzioni in quantità idonee a garantire l'igiene, l'individuazione di idonei spazi nei quali gli utenti possono sostare nel rispetto di requisiti di distanziamento, la predisposizione di informative per la prevenzione anche tramite cartelli realizzati in più lingue, la regolamentazione per l'accesso ai fornitori degli spazi comuni, l'esclusione della funzione di riciclo dell'aria per gli impianti di condizionamento se possibile, quindi tutta una serie di regole che chiaramente devono essere rispettate per evitare la diffusione più di altro il rischio di contagio. È tutto per quanto riguarda l'ordinanza 73, un caro saluto e grazie per l'attenzione. Alla prossima puntata.